Matteo Salvini ha parlato di un mostruoso conflitto di interessi e ha dichiarato che il vero responsabile è Renzi. Le dimissioni del ministro Guidi erano un atto dovuto, doverose, ma il vero responsabile è Matteo Renzi. Questo è un governo in perenne conflitto di interessi, che ha guardato sempre a tutelare gli interessi dei pochi, magari di qualche amico, preferibilmente toscano, delle grandi lobby o delle banche. Ecco, rispetto a questo è Renzi che dovrebbe dimettersi e riconsegnare al popolo italiano la possibilità di andare nuovamente al voto e scegliere magari un nuovo presidente del Consiglio più attento alle esigenze dei cittadini che non a quelle degli amici. Noi crediamo che anche il ministro Boschi dovrebbe dimettersi, soprattutto perché quelle migliaia di risparmiatori truffati dalle quattro banche, dove tra l'altro sedeva anche il padre del ministro e un consiglio di amministrazione, ancora aspettano i decreti per essere salvaguardati e per salvaguardare le proprie vite.